ed ecco qui dal Kimo85 e ciao Keletan ciao allora oggi abbiamo due missioni che ci hanno dato i nostri iscritti lo sai? si doveva fare il pippo coso che fa tutto da solo va bene abbiamo due quest Archimala quest di alimentare la tartaruga con i secchioni di lava guarda guarda l'ho visto sto coso l'ho visto guarda il buono mamma l'ho visto ma che cosa ci devi fare qua sotto? una scala che gira intorno fino alla bedro mi sembra il buco del culo del mondo allora Cici tu hai la missione di fare i test con la tartarughina ninja con il secchio di lava e io faccio il famoso autonomous activator però se mi dai un secchio di lava beh io ti posso dare un secchio un secchio pieno d'acqua guarda te lo lancio no voglio vuoto beh dammelo lo suoto eh guarda qua qua dentro guarda allora partiamo intanto a grande 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 plebiscito la tartaruga si chiamerà Ciccettina ti piace? Ciccetta ti piace? sì come abbiamo detto siccome si trova il diamante davendo una tartaruga prego Ciccetta è tua Ciccetti ora decidi dove distruggere il mondo e io intanto faccio il famoso autonomus activator beh intanto vado a prendere la lava vai l'autonomus activator è un blocco che fa finta di essere un utente e schiaccia i tasti per conto nostro comunque oggi è un'altra scelta eh lo so no no eh lo so non sento l'audio di minecraft vai tranquillo non senti l'audio di minecraft? no no ma che palle cioè ragazzi cazzo me ne capita di tutti i colori e le cuffie che non andava al microfono e il computer che si impallate di tutto Cici ma Tin cos'è lo stagno vero? Tin è lo stagno si ah ok allora devo fare delle rotelle di stagno Ciccetta quindi via sto ferro e via aman 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 ma sai che siamo letteralmente senza carbone non si è vado tutto per fare le ultime torce si due blocchi abbiamo di carbone ce li facciamo bastare questo oro e qui abbiamo un casino colossale che va sistemato qui c'è troppo bordello c'è caos caos si ma io ti sento solo gracchiare vai tranquillo stasera è perfetto per registrare eh vabbè in Ciccetta grandi problemi quindi eh no Cicci devo smettere di dire quindi dico sempre quindi sono come Berlusconi quando diceva mi consente mi conoscente quindi mi conoscente aiuto mi sono rotti i coglione scusa eh prego 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 no non è diamante eh forse cadrò nella laura però non lo so ok adesso facciamo gli ingranaggi di Tin mi serve un po' di ferro e questo bellissimo stagno ecco iniziamo fare il ferro ah ok solenalmente fuso che faccio di scrisciata a caso e tuta povero Ciccio va tutto bene Ciccio la nostra casa è qui sì sì e nessuno mai te la toglierà eh sì ah sto impaziente cioè tanto per le sfighe delle sfighe ci ha trovato un unico pezzo a profondità 12 che c'è la terra e io non ho la pala eh che Ciccio ragazzi gli scrigni di legno ce ne ho qua uno ecco qua e poi dovrei avere qui un pistone l'ho visto l'altro giorno che Cicci l'ha rubato chissà dove ecco qua boh e sembra che abbiamo tutto per l'activator poi serviva del vetro per fare questo pneumatic servo vetro ferro e rezzo e vediamo se Ciccio mi ha lasciato un po' di vetro se no lo creiamo ti senti meglio per Ciccio che oggi stai animare? sì Ciccio mi sento meglio perché ho trovato il diamante questo a meno no non è diamante no oggi non ce la posso fare però va bene però in compenso ho trovato la lava abbiamo tutto ma non ce la faccio perché non riesco a tirare fuori a far memorizzare le ricette Ciccio una volta ce la facevo ma ma questo è facile posso fare anch'io non lo so ce la posso fare ma questo qui ci serve un po' nooo olè fatto poi facciamo così mettiamo due rotelline qua uno scrigno oh cazzo cosa c'era sopra? questa? oh no non mi ricordo più che cosa? eh ho dimenticato la ricetta l'ennesima volta ma scusa Cicci ma non c'è un punto di domanda vicino il pistone ci vuole ma non è che ho disattivato quest'opzione nella NEI vediamo inventory non lo so non lo so neanche io eh amen dai non lo vede il punto di domanda quando vai a vedere il crafting non c'è un punto di domanda? no no non ce l'ho uffa e va bene va bene non è un problema io voglio un bene ma saranno diamanti questi? manco per il ciuffolo no ce la posso fare ma dai ma io come faccio a trovare le streghe sotto terra? fatto l'autonomous activator quindi adesso l'autonomous praticamente si pianta con la faccia verso di qua eccole qui e basta sta già pompando aiuto le streghe no sto morendo M M T T T T almeno muoio a casa dai stai zitto non urlare che non si capisce niente ah vedete adesso questa specie di di boccuccia continua ad attivare il mio aggeggio dov'è il Cicci? fuori casa avvelenato vieni a dormire Cicci e quindi il grindstone sta macinando una iera in continuazione eccetera 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 è un primo modo molto elementare per fare un po' di polvere dai nostri materiali quindi raddoppiare la produzione Cicci era Refuel il comando? si la tarta cicetta ah mille di fuel perfetto adesso sai cosa dovresti fare? è poco sai cosa dovresti fare? dovresti fare un bel laghetto di lava qui oppure andare giù portati a tartaruga la lava e riempirla come una bestia forse sta con secondo intanto che ti ascolta arrivi il gioco perchè non c'è i suoni che sarà questa configurazione? ma non lo so ma stai facendo lo spippo coso? si si ah ma io lo spippo coso lo so fare ma è già pronto? no guarda rimetti la leva e l'hai rotta tu ah ma già funzionava non devi fare niente hai fatto solo danni che cosa devi fare tu? metti la leva scusami ma già andava come già andava? già funzionava mi è diventato tutto nero non lo so ascolta già funzionava hai solo rotto le palle hai solo rotto le palle già va non devi fare niente già funziona basta fine ma non vedo la leva che gira ma per forza non la vedi che gira stai facendo danni tu ma perchè l'hai rotta? ma tu la stai rompendo? nooo è quel cazzo di cosa qui ah senti quando l'ho messo in versione default funzionava benissimo eh ecco adesso stai fermo sei arrivato tu e hai fatto i tagli eh che cazzo vedi? eh che devo piangere scusa io piangerei un po' e stasera? ah mettiamo la leva mettiamo la macchinina ma non va più ah no non va più perchè non c'è più materiale capito? ah ecco perchè quindi si spacca tutto molto intelligente perfetto quindi devi caricarla come una iena di materiale dai tutto dentro eh cercali se non è necessario va bene va bene eh già che festa spacca tutto eh il più abbondante che abbiamo è il ferro poi abbiamo il copper e poi abbiamo in abbondanza questo tin eh mi sembra che basta per un po' tre slot che possiamo occupare questo è tin dust che metto a scioglio da qualche parte e quindi ho distrutto una serie di leve per un cambio e dopo la colpa cicciatino poverino eh ma ci vorrebbero le leve di diamante eh ma sono solo di legno vedi che adesso gira come una lippa aspetta e adesso si macina tutta sta roba vediamo se abbiamo altro ferro o no eh si macina si 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 però piano economico non consuma niente no questo tin non si può fondere con questo Cici dovrei cuocere della pappa acqua io ho delle patate arrostite eh le ho fatte io va bene le hai fatte tu queste 15 con io d'accordo ah le hai fatte tu? no no le hai fatte tu allora Cici comunque smaccina sta cosa e smaccina come una iena resta come dice Giorgione una smucinatina allora Cici devo fare un secchio andiamo giù riempiamo sta tartaruga di lava come delle bestie dai andiamo in due vieni eh ce l'ho già io secchio ehi ma due secchiata a volta dove sta la lava ciccetta? eh devi andare sotto a caso mi dai un po' di patata? te grazie tieni quanta patata che vediamo perché vai di lì scusa? dimmi un posto ma se vogliamo fare i trasgressivi c'è la colata di lava la però possiamo andare sotto dove sei? sono buttato in un fosso mi sono buttato io avevo trovato della lava in un punto qua guarda ora ci vado eh ma non so dove sei eh va bene non preoccuparti mi raggiungi col tp guarda qua dentro c'è un mucchio di lava andiamo dai andiamo a sfogarci no aspetta mio nome e tuo nome d'archimo a chelero yeah qua sotto c'era una valanga di lava perfetto esattamente come ricordavo via quest'acqua ci sei cicci? ho trovato la lava ma non è che ce n'è tanta qua in realtà di lava sotto ma è sfigata questa non riempie il secchio no la lava sfigata no ci vuole un lago di lava ci ho detto una sciocchezza beh scusa siamo all'altezza 26 possiamo scendere a cazzo di cane va bene intanto io cosa faccio con il secchio? io lo metto nell'inventario il secchio? e i skewer e fewer si si ah bravissimo cici e infatti sta lava è già finita e ciccetti che fai? stai scavando con una iena verso il basso? si a cazzo di cane proprio e intanto il ferro lo raccogliamo ragazzi io mi scuso con tutti perché mi avete detto che vi faccio impressione perché abbandono sempre i materiali in giro va bene adesso scavo un po' non troppo ma un po' e di qua cicci? non lo so dove sei andato a scavare? c'è un buco ma verso il basso stai scavando? si ok ti metto le torce? ah ma si c'è qua stai dietro scusa no sono lontano scusa gioco di piccone gioco da villanone fermo siamo all'altezza cicci? 12? io ho sempre l'altezza 12 perché è tattica adesso ti becco dei bei diamantoni stai zitto che stavo per urlare ma non è un diamante cazzo la redstone viene buona si io sto lasciando indietro le cose tanto poi passerò off camera a far pulizia si si ragazzi io scaverò anche un bel po' fuori onda perché non va niente di armi cicci se trovi carbone tira su si no più che altro adesso dobbiamo trovare la lava siamo sotto il mare ok allora 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 ma nella puntata dove non c'era cosa hai fatto? niente ho parlato dell'iPhone 6? posso dire che ho trovato i diamanti fa culo perché fa culo scusa perché non trovo un cazzo scusa ma i diamanti si trovano facili facili che sfocchiato che sono ne ho trovati solo sei ma prima ne ho trovati adesso adesso ma dai dobbiamo incantare subito un piccone guarda visto il culone sfondato che hai ci uscirà quello che raccogli più roba beh i 30 livelli scegliamo e io sono morto 10.000 volte quindi non li ho mi dispiace per te scommetto non ti dispiace neanche un po' no comunque non sto trovando la lava che sfiga vermelio e diamante della lava allora Ciccetti come al solito e Ciccettino ha trovato prima di me allora guarda Cicci pianto qui la turtle e poi facciamo avanti e indietro riempirla ti va? si avanti eh Cicci si non sbagliare a schiacciare ah ma figo ce ne metti due lui fare fuori di due ottimo vai svuota tutto 5.000 vai Cicci Cicci non c'è il tasto su si si c'è il tasto su alla Linux 7.000 vai Cicci vai che la sfruttiamo sta lava la pietra non la vuole Cicci e non so dove metto ma c'è ma perché scrivi Esu? non ve lo spiegate perché è inventario e ma perché lo scrivi? è l'abitudine ah 12.000 che sono 12.000 pasti praticamente e tanto? no no arriviamo a meno 50.000 dai 50.000? Cicci si tirando su lava trovo il diamante il mio primo diamantino guarda eh ma buttati a prenderlo se riesci no no asciughiamo prima questa lava fu il limite Richard Richard fu il limite oh cazzo allora il massimo è 20.000 dai tira su il secchio oi Cicci facciamo così quel diamante mi garba sai si adesso tiro su un po' d'acqua e asciugo la lava arrivo subito a me hai trovato una bella miniera se poi ce la esploriamo un secondo lasciami il privilegio di chiapparla a me grazie no che lusso grazie Cicci ecco qua il primo diamantino del vecchio Kelet Cicci dai due diamanti c'è la lava dove? lì qua non c'è lava si che c'è lava c'è acqua non vedi che c'è l'acqua ciao allora ragazzi dopo questa grande scoperta e aver trovato il primo diamante e aver fatto l'autonomous activator io e Cicci andiamo a scavare un po' e nella prossima puntata lanciamo la tarto scavatrice all'opera Ciccietti saluto a tutti ciao a tutti ciao ciao ciao